E inizia la finale maschile, devo dire com'è da pronostico, Kings of Kings contro Spruzzolo che è poi la finale FISB dell'anno scorso a Riccione E in attacco vediamo i Kings of Kings, da fuori Wester di lei, non va, prende in balzo Andrea, Andrea, Davide Non so se notate, ho già imparato i nomi come un vero telecronista, signore e signori Qui alto livello, non solo cestistico ma anche telecronica, non va, il tiro di Davide Wester prende in balzo, Brian lo coordina, grande, penetrazione, fallo, fallo di Andrea Spruzzolo Un tiro libero